guardate cosa ho trovato qua di fronte qua alla vetrina una bottiglia di chianti e ancora hanno fatto festa di fronte al negozio allora amici del canale emelo siamo qui di fronte alla nuova stazione della funicolare di lugano la sassalina probabilmente forse non tutti sanno che questa qui è uno dei mezzi pubblici più cari al mondo un franche 30 per 205 metri quindi è veramente una cosa incredibile ce l'abbiamo qua a lugano ve lo spiego ancora meglio per farvi capire meglio ho chiamato una famosa agenzia di viaggi qua a lugano andiamo avanti quanto costa diciamo il biglietto più costoso in first class o in business class in aereo tipo un zurigo new york una roba del genere ma 11.000 franchi 11.000 franchi bene la ringrazio buongiorno può costare 5.000 franchi come ne può costare 15 ok va bene va bene è stato gentilissimo è stato gentilissimo le auguro buona giornata quindi 205 metri un franco e 30 un chilometro 6 franchi e 50 4.000 chilometri 26.000 franchi quindi business class o first class hanno una media dei costi che vanno dai 5.000 ai 20.000 costa meno in aereo avete capito amici che abbiamo il mezzo pubblico più costoso al mondo siamo i numeri 1 ringrazio già boniga che è l'ultimo iscritto che è questo qui bene molto bene e vi invito a iscrivervi al canale e se non avete fatto il logo è qua sopra a video camera converts the picture into a television signal